Poi sempre più forte, ma è un mercolore che non è più buoni! Adesso bisogna fare l'urla disperata delle persone. Sentite, continuo era il clamore di quelli che isolati fra le acque chiedevano gementi aiuto. Le stride, i gemici, gli unlulati non cessavano di crescere. Era continuo il suono delle vissi campane che imploravano sul corso. Onde salvare le vite e le sostanze dei miseri cittadini Pensate, che suonavano a martello non solo le campane della Torre Maggiore Ma quelle di tutte le 61 chiese di Verona Beh, come facciamo a fare le campane? Con un cd? Con un cd? Con un cd? No, con un cd? E portiamo in teatro le campane verde E portiamo il campanello di Pirello Il campanello della bicicletta Il campanello della scuola Basta, la campanella di Pirello